Ti stai mangiando le mani perché hai chiuso un'operazione che se avessi lasciato correre ti avrebbe fatto guadagnare molto di più? Salve a tutti, Marco Casario qui e quante volte nel trading ragazzi vi è capitato, ci è capitato, ci capita e ci capiterà col senno del poi, il giorno dopo, due giorni dopo, una settimana dopo magari aver chiuso un'operazione in profitto, nemmeno voglio dire in perdita ci mangiamo le mani perché vediamo che quel sottostante poi è cresciuto ed è andato ancora di più a nostro favore nella nostra direzione in acquisto e in vendita e se avessimo chiuso più in là l'operazione avremmo guadagnato molto di più e quindi vi state mangiando le mani, i gomiti, vi date del cretino, volete sbattere la testa al muro avete perso un sacco di soldi che avreste potuto guadagnare, ragazzi no, fermi tutti, questi pensieri dovete toglierli dalla testa e lo so che è una delle cose più difficili da fare per un trader ma col senno del poi, è la risposta che do tutti quanti i miei studenti ragazzi col senno del poi saremmo stati tutti ricchi, saremmo diventati tutti più ricchi, avremo fatto profitti tutti quanti più alti la realtà è un'altra, è che il futuro non lo sa nessuno, nessuno sa che cosa succederà sul mercato il giorno dopo, due giorni dopo mi aggancio all'esempio di Tesla, di quello che è successo in Tesla in 3-4 giorni, il titolo si è mosso facendo il più 20% intraday andando a baciare il giorno dopo i 1000 dollari e poi ovviamente ho cominciato a ricevere dei messaggi di ragazzi e di amici cavolo Marco ho chiuso l'operazione l'altro ieri e se l'avessi lasciata aperta avrei fatto il 35% in più, se l'avessi chiusa a 980 dollari quando ha toccato il massimo mi sarei portato a casa 10.000-20.000 euro di profitti, non è importante la cifra ragazzi non è così che si fa trading, perché esattamente per questo discorso vale anche il discorso contrario cioè il ragionamento per il quale non volete chiudere un'operazione perché non volete accettare una perdita e allora lasciate correre, spostate lo stop loss sempre più in basso nella speranza che poi il prezzo cambierà direzione a vostro favore l'operazione poi magari, io lo so che cosa vi dice il vostro cervello, no, aspettiamo che il prezzo giri chiudo a break even, appena arrivo a zero chiudo, poi quando magari gira e arriva a zero non chiudete e vi rigira di nuovo contro questa è la ricetta, queste sono le ricette per distruggere il vostro capitale se siete entrati su un sottostante, facciamo l'esempio di Tesla, immaginate che avevate acquistato Tesla a 100 dollari 200 dollari, 300 dollari, 500 dollari, non lo so, perché la vostra strategia, le vostre regole vi dicevano di entrare innanzitutto la prima domanda, siete entrati per un investimento di medio termine o siete entrati per un investimento di lungo termine perché questa è la primissima domanda che dovete farvi, perché questa fa anche la differenza, no, rispetto a decidere quando uscire e dove, come dico sempre, quando entrate su un'operazione dovete immediatamente sapere se per quell'operazione avete intenzione dove è posizionato lo stop loss, quindi l'uscita in perdita e dove è posizionato il take profit, cioè l'uscita in profitto lo dovete sapere subito e quindi avete delle regole fondamentalmente se seguite le regole non sbagliate mai, ricordatevi una cosa, non ho mai conosciuto un trader che ha chiuso, si è portato a casa dei profitti e che poi è un trader perdente soprattutto se quei profitti li chiudete quando la vostra strategia, le regole della vostra strategia vi dicono di chiudere perché sei entrato a quel prezzo di Tesla e perché hai posizionato il take profit o lo stop loss in quella posizione qual è la strategia dietro, il backtesting dietro che ti ha detto di far questo e un altro discorso sei centrato su Tesla o su qualsiasi altro sottostante come investimento di lungo termine quindi 3, 5, 10 anni di investimento se Tesla arriva, perché è un titolo volatile Tesla arriva a 1000 dollari e tu stai lì che vuoi vendere perché hai paura che poi, come è successo il giorno dopo ovviamente dopo questa grande bull run perché i prezzi ragazzi non vanno solo verso l'alto poi vanno verso il basso perché i trader cominciano a portarsi a casa i profitti perché c'è speculazione ovviamente e è riscesa di nuovo a 800, 700 dollari e allora vi state mangiando le mani avrei potuto vendere a 1000 e poi rientrare a 700 ragazzi quello è un investimento di lungo periodo Tesla, se siete entrati e avete studiato i fondamentali è un'azienda in cui credete i risultati li andrete a vedere non guardate la volatilità giornaliera non state lì sempre sul grafico a guardare a cavolo, oggi ha fatto più 10% ieri ha fatto il meno 5% se è un investimento di medio-lungo termine guardate il grafico, mettete il settimanale e sganciatevi dalla volatilità questo per dirvi non entrate nel loop io lo chiamo col senno del poi perché col senno del poi eravamo tutti ricchi ma in realtà nessuno diventa ricco col senno del poi perché il futuro non lo conosce nessuno la mossa giusta, l'uscita perfetta o l'entrata perfetta all'interno di un sottostante nel mondo del trading non esiste esiste la vostra entrata esiste l'entrata della regola della vostra strategia quella è la giusta entrata per voi perché la vostra strategia l'avrete backtestata nel tempo avrete studiato il passato e quindi saprete quando entrare e perché entrare a quel prezzo quella è l'entrata giusta e quando siete usciti portandovi a casa il profitto e poi il giorno dopo ha fatto un altro più 10% non mangiatevi le mani sì lo so è un peccato sì lo so ma non è non potete basare il vostro ragionamento la vostra strategia di trading su quello che avete visto poi il giorno dopo due giorni dopo e quindi la prossima volta dirvi ah no cavolo la prossima volta aspetto a uscire in a prendermi il profitto perché poi magari il giorno dopo può salire ancora di più perché il giorno dopo magari vi apre con un gap al ribasso e voi chiudete la strategia che magari è una strategia che vi ha fatto portato un profitto del 3, 4, 5, 10% non lo so magari la chiudete a molto meno ed è così invece che andrete nel lungo termine a perdere stesso discorso con bitcoin io stesso se seguite il mio canale tornate un po' indietro nel tempo a quando c'è stata quella grande bull run che poi ha portato bitcoin a 20.000 sul mio canale io vi ho detto quando sono uscito non sono uscito ai massimi sono uscito intorno a 17.000 dollari con i bitcoin di breve investimento sapete ho due portafogli ma non è che mi mangio le mani perché sarei potuto uscire a 20.000 le mie regole mi dicevano che dovevo uscire in quel momento ho fatto un eccellente profitto punto basta su Tesla ce l'ho nel portafoglio la tengo nel lungo termine potrebbe non arrivare mai più a 1.000 dollari non lo so non credo sinceramente per i motivi per cui sono entrato sono che ho grandi prospettive di crescita sull'azienda e parlare bene non è assolutamente un consiglio finanziario Tesla è estremamente volatile come titolo ma accetto quello che viene perché sto seguendo il mio trading plan sto seguendo le mie strategie ragazzi mi raccomando non veramente non mangiatevi le mani e non ascoltate nemmeno chi vi dice ah cavolo io ho chiuso ai massimi si può succedere una volta due volte cinque volte nella carriera di un trader di uscire esattamente al massimo o entrare esattamente al punto più basso può succedere anche questo ma statisticamente non è quello che succede nella maggior parte dei casi quindi state tranquilli ragazzi noi ci vediamo prestissimo un like e datemi anche un commento per dirmi come vivete voi queste situazioni qual è il pensiero che vi che piano piano vi mangia all'interno della vostra testa e magari vi fa fare anche la cosa sbagliata lasciate qui un commento può essere utile ad altri io vi lascio con questa vista magnifica dal Gianicolo ragazzi siamo sul Gianicolo a Roma questa è la vista bellissima noi ci vediamo prestissimo grazie mille per l'attenzione buon trading a tutti ciao grazie mille per l'attenzione la giornata è finita la mia casa Grazie a tutti